Sono molti giorni che l'orologio non batte le ore. Ma solo i quarti. Visto che non è stata trovata una soluzione abbiamo presentato una interrogazione al fine di sollecitare l'intervento e la sistemazione dell'orologio. E' arrivata la risposta dell'amministrazione, si sono accorti del problema ma per la soluzione si deve noleggiare una piattaforma e avere a disposizione due operai. Restiamo in attesa che si verifichino questo due condizioni e verrà riparata.